Campobasso Roma in sette ore con i passeggeri costretti a cambiare due volte i pullman a causa di guasti ai mezzi di trasporto, più che un viaggio, una vera e propria odissea, quella affrontata dai pendolari che nella serata di mercoledì sono partiti dal capoluogo di regione per raggiungere la capitale, con i lavori che stanno interessando la tratta ferroviaria, il servizio almeno fino a settembre garantito dai bus sostitutivi, così alle 19.20 il pullman è partito regolarmente dalla stazione di Campobasso. Ma una volta arrivati qui in piazza Falcone e Borsellino davanti alla stazione ferroviaria di Venafro sono iniziati i problemi, dopo che sono saliti altri passeggeri le porte del pullman non si sono più richiuse, così si è reso necessario l'intervento di un altro mezzo sostitutivo che è arrivato da Isernia. Intorno alle 22.15 dopo che erano trascorse già tre ore dalla partenza da Campobasso i viaggiatori riprendono la marcia in direzione Roma, ma le amare sorprese non finiscono qui. In autostrada un passeggero si accorge della fuoriuscita di fumo ed acqua dal mezzo, così l'autista non può far altro che fermarsi all'area di servizio di Prenestina e attendere l'arrivo dei soccorsi. A quel punto molti viaggiatori si sono organizzati autonomamente chiedendo aiuto ad amici e familiari, ma i sette passeggeri che non sapevano come raggiungere la stazione Termini hanno dovuto attendere l'arrivo di un van che finalmente alle 2.10 della notte li ha portati a destinazione. La vicenda confermata da alcuni pendolari è stata ripresa anche dalla pagina Facebook il binario 20 bis, da sempre attenta alle problematiche che riguardano i collegamenti ai trasporti. E i commenti dei cittadini non lasciano spazio a dubbi quanto accaduto mercoledì sera e l'ennesima dimostrazione di come raggiungere la capitale dal Molise si è diventato sempre più complicato.